Francesco Moser, che splendida festa hanno organizzato gli amici della Puglia, in particolare Vito Ditano? Sì, hanno organizzato questo campionato nazionale e soprattutto hanno avuto anche un tempo favoloso perché sembra quasi primavera, siamo in inverno, ma il ciclocross normalmente si fa anche col freddo ho corso ancora anche con la neve, quei pochi che ho fatto. Tantissima gente sul percorso, la Puglia ha risposto alla grande? Sì, è un percorso molto bello qui in questo stadio e poi di fuori c'è un terreno vario dove ci sono questi ostacoli c'è la terra, gli ostacoli, insomma, e penso che per il ciclocross vada bene così con l'asciutto poi certamente è molto più veloce. Lei ha corso una gara di ciclocross proprio insieme a Vito Ditano, cosa ricorda di quel giorno? Era stato negli anni 77-78, organizzavamo sua casa mia il ciclocross e facevamo la corsa a coppie, un giro per uno ci davamo il cambio e abbiamo vinto io e Ditano, ma per merito suo, non per merito mio. Grazie 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 Grazie